Tutti preoccupati là? Agrigento? Tutti. Aspettano le cene di Pierandello. Piano! Piano! Piano, piano! Slow down! Oh, slow, slow, yes, ok, ok. Slow down. Ok. Non ci possono chiedere di vedere un vaso greco con il funerale che attraversa Agrigento. Agrigento a levarsi il cappello davanti a un vaso. Non ce lo possono chiedere. Tagliato, sta ruando. Hai visto? È morto un bambino. Il happiero! Joder! Inserio! Ja! Grazie a tutti.